Una mozione che impegna il Presidente della Regione Cristian Solinas a riferire in Consiglio regionale durante una seduta appositamente convocata sul pranzo vietato di Sardara del 7 aprile quando la Sardegna era in zona arancione alla vigilia del passaggio in fascia rossa. L'hanno presentata tutti i gruppi di opposizione. Il documento chiede che il Presidente Solinas si presenti in aula per riferire sull'annunciata revoca degli incarichi fiduciari di natura politica e dirigenziale nelle amministrazioni regionali, in particolare qualora nei prossimi giorni non si dovessero concretizzare gli atti annunciati, ma anche su quali azioni urgenti intende adottare il Governatore per la tutela della credibilità della Regione Sardegna e dell'immagine dell'isola come metaturistica e su come si vorrà porre rimedio ai danni economici e di reputazione causati dal pranzo, ormai famigerato anche a livello nazionale, scrivono gli esponenti dell'opposizione nella mozione. Il documento obbliga la convocazione dell'Aula sul tema entro il 1 maggio. Sul pranzo di Sardegna intanto prosegue l'indagine della Procura della Repubblica di Cagliari che ha sentito una parte dei circa 40 partecipanti, 19 dei quali sanzionati dai finanzieri della tenenza di San Luri, intervenuti nella struttura recettiva in cui si stava tenendo il pranzo. Tra loro dirigenti di enti regionali, militari, politici locali, sindaci, amministratori comunali, dirigenti di strutture mediche. Grazie. Grazie.